E' stata riaperta questa mattina in via provvisoria la nuova area parcheggio del nuovo porto di Stresa. Lo ha comunicato il sindaco Marcella Severino. Una quarantina agli stalli disponibili. La prima cittadina di Stresa ha spiegato. Il parcheggio doveva essere finito già a giugno, ma le piogge dei mesi primaverili hanno allungato i tempi dei lavori. A maggio, per esempio, è stato possibile lavorare solo quattro giorni. Severino precisa che l'area non è ancora ultimata. Mancano infatti ancora il tappetino finale, la segnaletica e lavori di finitura alla barriera a lago che verranno conclusi a fine stagione. Il sindaco conclude. Abbiamo chiesto alla ditta di consegnarci l'area per offrire stalli in questo periodo di grande affluenza. Al momento qui la sosta è gratuita. Successivamente, per andare incontro a cittadini e lavoratori, sarà libera in settimana e a pagamento solo nei weekend e nei festivi. Il tema del parcheggio e dell'annosa questione del nuovo porto è stato sollevato dalla minoranza anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale.